Ancora assieme gentili telespettatori edizione del Friuli Venezia Giulia del telegiornale in apertura andiamo in provincia di Udine a Pasiandi Prato e qui che sono state scoperte due donne, due ladre che ormai sono più riconosciute dalle forze dell'ordine. L'ultimo colpo scoperto proprio da una vittima inseguita e poi arrestata dalla polizia ebbene sono state rilasciate perché entrambe sono incinta. Un metodo che permette loro a quanto pare di evitare l'arresto. Ma sentiamo che cosa è accaduto nel servizio di apertura del telegiornale. Sorprese mentre tentano un furto in un'abitazione e straggono il certificato di gravidanza per evitare l'arresto. È successo di nuovo protagoniste due giovani donne di 32 e 26 anni nate e cresciute in Italia di origini croate senza fissa dimora. Già note le forze dell'ordine denunciate dalla polizia per tentato furto a Udine. Sorprese dal padrone di casa nel cortile della propria abitazione a Passons di Pasiandi Prato le due donne hanno subito cercato di direguarsi scavalcando la recinzione dell'immobile. Il proprietario ha dato una rapida occhiata agli infissi notando immediatamente i segni di una forzatura. Senza perdere mai di vista ha composto il numero unico di emergenza e in contatto con una pattuglia della squadra volante ha continuato a seguirle fino a che sono entrate nel bar della piazza centrale del paese. È lì che gli agenti della polizia sopraggiunti nel frattempo hanno individuato le due donne sull'indicazione della vittima del tentato furto. Fate salire sull'auto di servizio, le due sono state accompagnate in questura per la identificazione. Nel tragitto fra la frazione di Pasiandi Prato e gli uffici di Viale Venezia le due donne hanno tentato in vano di disfarsi di due grossi cacciaviti. Gli attrezzi del mestiere sono stati sequestrati dalla polizia. Il vero asso nella manica tuttavia le due donne hanno estratto una volta all'interno degli uffici della polizia che hanno infatti estratto il certificato di gravidanza. Una sorta di salva condotto che avevano appositamente portato addosso sapendo bene che in questo modo, qualora fossero state prese, avrebbero potuto evitare il carcere. E così è andata effettivamente. La polizia che stava per procedere all'arresto, sentito il magistrato di turno, le ha dovute liberare con una semplice denuncia per tentato furto. Le due ladre incinta erano già state sorprese una decina di giorni fa dopo aver sottratto diversi munili in un altro immobile, sempre nell'Interland udinese. Una delle due in particolare ha collezionato dieci denunce per furti, talvolta sorpresa in flagranza, talaltra nell'esito delle indagini realizzate tra Trieste, Monfalcone, Mortegliano e Udine. La donna, 32enne, deve scontare anche una condanna a 11 anni di reclusione per un cumulo di pene, sempre per reati contro il patrimonio. Anche in questo caso, tuttavia, la condanna non è applicabile. A tenere la donna notata dal carcere è sempre la gravidanza in corso, oppolutoratamente certificata da un medico. E non è la prima volta che accade. Già alcuni anni fa, sempre la polizia si era trovata a fermare le due ladre, sempre due giovani donne di origine croate, dopo un furto commesso all'epoca in un'abitazione udinese. E anche in quel caso, una delle due ladre non aveva tardato a far sapere ai poliziotti di essere incinta di un paio di mesi. In quel caso, la donna venne comunque arrestata e accompagnata in una struttura apposita, prima di essere scarcerata. Ora andiamo invece a Pordenone. Parliamo delle serrande alzate in occasione delle recenti festività e anche per il primo maggio. Ma è pronta anche una protesta, sentiamo quale, in questo servizio. A Pasqua c'è stata una tregua, ma a Pasquetta sono stati diversi i negozi che hanno tenuto le serrande alzate. E lo shopping festivo, in alcuni casi, è proseguito fino a tardasera. E lo stesso accadrà per i diversi punti vendita della grande distribuzione, anche in occasione del primo maggio. Ed è per questo che il sindacato delle categorie dei commessi di CGL, CISL e WIGL sta affilando le armi. Saranno organizzate assemblee e incontri informativi nei luoghi di lavoro per mettere a conoscenza tutti i lavoratori nel settore della normativa. Non c'è alcun obbligo, insistono le organizzazioni sindacali, per i lavoratori nelle giornate di festività. Le norme contrattuali lasciano libera scelta a ogni lavoratore di essere presente o meno in queste giornate. Non può scattare alcun provvedimento disciplinare nel caso in cui il lavoratore decida di non essere presente nei giorni festivi. A supporto vi sono delle sentenze della Cassazione, che confermano la libertà di adesione a presentarsi al lavoro in occasione della festività. È una precedente che il sindacato considera importante. Il caso fu seguito in particolare dalla Filcams CGL e proprio riferito a un dipendente pordenonese di un centro commerciale che nel 2017 non aveva lavorato nella giornata del 25 aprile. Il sindacato territoriale, in occasione della Pasqua e della Pasquetta, aveva deciso di informare i lavoratori del comparto del commercio e di metterli in guardia rispetto a quello che prevedono le normative in merito al lavoro nelle festività. In altre regioni, in particolare in Umbria e in Puglia, alcuni centri commerciali sono rimasti aperti anche nella giornata di Pasqua e per questo che il sindacato di quel territorio ha deciso di proclamare uno sciopero proprio dal giorno di Pasqua. Per ora, ha informato Daniele Buz, segretaria Filcam CGL, si è deciso di agire attraverso assemblee informando i lavoratori sui loro precisi diritti. Le persone costrette a lavorare nei festivi sono ormai esasperate, in particolare ci si attendeva una modifica della normativa, come era stato promesso, a più livelli, mentre fino ad oggi nulla è stato fatto. Vedremo nei prossimi giorni quale sarà il clima e cosa decideremo con i lavoratori. È per questo che CGL, CISL e Wille mettono sotto accusa governo e regione. In campagna elettorale, sottolinea Adriano Giacomazzi, segretario regionale della FISASC-CISL, tutti a Roma, a Trieste, si erano impegnati a modificare le norme e a prevedere una serie di chiusure nelle festività religiose e civili. Ora i lavoratori cominceranno a chiedere conto. È così, la questione delle aperture festive sarà uno dei temi chiave nella prossima manifestazione, in occasione del 1 maggio a Pordenone. Dal panco sindacale saranno lanciati appelli anche alla regione. Torniamo nel capoluogo friulano e parliamo invece ancora di cronaca, una vicissitudine legata ad una truffa, un ristoratore che si vede avvicinare da una donna che chiede appunto di preparare un pranzo, in questa occasione per la Pasqua, alcuni amici, ma vuole provare un vino preciso, che è un vino francese, del costo di quasi 100 euro a bottiglia. Il ristoratore lo acquista, ma poi nessuno si vede più. È una truffa che purtroppo sta circolando un po' in tutta Italia. È così anche nel nord-est. Sentite che cosa è successo a Udine. Si presenta al telefono come una cliente interessata a organizzare un pranzo di famiglia o lavoro per una quindicina di persone, non bada a spese, ma chiede all'esercente un favore, quello di acquistare al posto suo una dozzina di bottiglie di pregiato vino francese con cui accompagnare il pasto. È lei stessa a fornire nome e numero di un grossista che sicuramente le ha in magazzino e le può consegnare in breve tempo. Il fattolino si presenta puntuale con la merce, incassando il patuito, 95 euro a bottiglia. Peccato però che si tratti di vino normalmente venduto a 6-10 euro a bottiglia. Quando il ristoratore se ne accorge è ormai troppo tardi. Inutile dire che anche la misteriosa cliente svanisce nel nulla senza farsi più trovare. La truffa del vino, che da settimane ormai impazza in diverse zone d'Italia, ha cominciato a colpire anche a Udine. I primi casi si sono registrati venerdì scorso, con diverse segnalazioni già pervenute alle forze dell'ordine, polizie e carabinieri. Almeno una truffa dal valore di oltre 500 euro è andata a segno. Un'altra è stata sventata grazie all'orario di apertura dell'attività che i truffatori hanno trovato poco conveniente e che ha permesso all'esercente di insospettirsi. In questo caso ad essere presi di mira sono stati due negozianti che operano nel settore dei generi alimentari. In altri casi il tentativo è rivolto ai ristoratori. Il copione però è sempre lo stesso. La finta cliente si presenta al telefono utilizzando un cognome diffuso nella zona e fa il proprio ordine. Approfittando in questo caso della scusa dell'imminente pranzo di Pasqua, a quel punto chiede poi all'esercente di acquistare per lei il vino. Ne vuole uno in particolare, un rosso francese, che desidera far assaggiare i suoi ospiti. Spiega di avere il numero di un grossista, che non vende però ai clienti privati. Prega quindi all'esercente di acquistarlo al posto suo. Garantisce che passerà a portare i soldi nel pomeriggio, prima della consegna. Seguono una serie di contatti telefonici tra la finta cliente, l'esercente che prova ad accontentarla, e il grossista, complice che ovviamente aduce subito la scusa di poter fare la consegna, unicamente in mattinata. Il fattorino arriva in negozio o al ristorante nel momento della maggiore attività lavorativa. Si presenta con modi affabili. Tremo ogni volta che devo fare una consegna con tutto quello che costano queste bottiglie. Non vorrei romperne una, scherza. Consegna la merce, incassa i soldi e sparisce, in tutta fretta, senza lasciare una bolla o altro. All'inizio la vittima non sospetta nulla e solo con il passare delle ore che inizia a capire che qualcosa non quadra. Una rapida ricerca in internet con il nome delle bottiglie consente di capire che non sono affatto di un rosso così pregiato. Ma a quel punto cliente e grossista sono svaniti. I numeri di cellulare lasciati al malcapitato sono intestati a ignare terze persone utilizzate appositamente per il raggiro. Alla vittima restano solo le normali bottiglie acquistate a un prezzo quasi dieci volte più alto del loro reale valore. Le prime indagini sono già partite per risalire ai truffatori. E ora andiamo a Trieste. Parliamo invece di chi ha usato il contrassegno dei disabili, quello della nonna, per parcheggiare. È stata poi multata. Usa il contrassegno disabili della nonna per parcheggiare e viene sanzionata dalla polizia locale. È successo in via Fabio Severo. Una pattuglia del distretto C di polizia locale è stata inviata sul posto perché un veicolo con il contrassegno generico occupava uno stallo disabili personalizzato. Il veicolo era lì dalla sera prima, già sanzionato ma non rimosso proprio perché esponeva il contrassegno. La pattuglia ha deciso di risolvere il problema contattando telefonicamente la titolare del PAS per chiederle di spostare quanto prima il mezzo e far posto al veicolo a chi aveva diritto. La signora ha detto di non sapere dove fosse il veicolo perché fuori città ma che avrebbe inviato qualcuno a spostarlo subito. E infatti poco dopo si è presentata la giovane nipote. Dalle sue dichiarazioni gli operatori hanno accertato che aveva usato impropriamente il contrassegno senza la titolare. La sanzione è di 87 euro e di due punti in meno sulla patente. Il contrassegno, fa sapere la polizia locale, serve al disabile e solo esclusivamente a lui. Non può essere utilizzato insomma da altri neanche se compie delle commissioni per il disabile stesso. una giustificazione piuttosto usata con gli agenti della polizia locale mentre contestano la violazione. Ed è giusto sfatare questa credenza. La persona sana non può utilizzare il contrassegno disabili senza titolare. Se ad esempio deve andare a comprargli le medicine senza di lui è tenuto a cercare un parcheggio regolare come tutti gli altri. Torniamo a Pordenone per parlare della fiera del radiomatore pronta a ripartire. Quota 54 per questa che è la più importante fiera del settore in Italia. Torna in questo weekend a Pordenone la più importante fiera italiana dell'elettronica radiantistica e informatica low cost. Una grande attesa tra il pubblico e degli appassionati per scoprire quali sono le novità della nuova edizione giunta questa volta alla storica quota di 54 di questa mitica fiera del radiomatore Hi-Fi Car che è in programma appunto alla fiera di Pordenone per questo sabato 27 e domenica 28 aprile. Con i suoi 200 espositore e gli oltre 30.000 visitatori attesi da tutto il nord dell'Italia ma anche dalla Slovenia e dalla Croazia è questa la manifestazione leader in Italia nel settore dell'elettronica di consumo ed informatica low cost nonché punto d'incontro per tutti coloro che vivono la passione digitale. Quest'anno tra le novità Radiomatore Broadcast il progetto sperimentale di comunicazione cross mediale che è stato messo in atto per la prima volta in occasione di una manifestazione fieristica in Italia proprio appunto dalla fiera radiomatore Hi-Fi Car nato da alcuni anni e potenziato ad ogni edizione. Si tratta di un progetto multicanale e multimediale ideato da Mac Premium che sfrutta le nuove tecnologie e la rete per trasformare la fiera in un hub di comunicazione trasversale che unisce i social network le app di messaggistica web i contenuti si creano e vengono quindi amplificati grazie proprio all'interazione tra i media nei quali Radiomatore è presente in maniera coordinata e massiccia con propri profili e piattaforme digitali con praticamente tutti i diversi social network. Grazie alla regia del Digital Company Mac Premium e di Gabriele Gobbo sarà possibile vivere questa manifestazione da remoto in diretta attraverso interviste chat interventi on air streaming reportage video e fotografici contenuti multimediali postati in tempo reale poi messi a disposizione degli utenti on demand ma anche sempre aggiornati sulle novità e il programma proprio della manifestazione. I nostri servizi i nostri live sulla pagina Facebook di Media24 ci fermiamo con questa edizione del telegiornale del Finuli Venezia Giulia ci ritroveremo con altre news nel corso della nostra programmazione rimanete con noi a risentirci alla prossima Grazie a tutti